Bella ragazzi, benvenuti in questo nuovo video del Valerione Buongiorno ragazzi, oggi siamo in un loco un po' più diverso Non ci vedrete in motorino probabilmente Oggi sono Cofioi, siamo andati a Castiglioncello Siamo in questa villettina lì che non c'è più nessuno E' Voda e ci avventuriamo per la zona La zona è questa Dato il rino a mano Oh bimbi uno che ci mette la mano sotto mentre passa Io faccio il video Voglio vedere così jump Il posto è questo Spero non si sentano limitate Parco Solite cose Qui non ci viene quasi nessuno Sperando che non ci siano velli che si buano nel naso Il tempo a Livorno faceva schifo quindi aveva deciso di venire direttamente qui Tanta roba comunque C'è il video vlogger Questo è un po' tutto all'interno Le scale C'è la piscina Questa è la vista Direi tanta roba Da qui c'è l'accesso alla zona balnearia Tra virgolette Zona balnearia Fa un po' sbocco Vabbè E questa è tutta Mi sa che ce ne leviamo Dalle bulls I beetles Brutta bestia Oh bestia Non ci si leva da cazzo Se andrà a mangiare qualcosa Bimbi si è aperto Cosa c'è il conad Si è aperto il conad E si fa il vloggino nel conad Vedrai Siamo arrivati al cancello Dove siamo entrati E niente Ci hanno chiuso fuori E' arrivata una vecchietta Incazzata Dicendo Che non si può scavarcare E che alle 4 e mezzo Chiude Ma non c'è il cartello C'è non lo possiamo sapere Non c'era Ma se venisse qui Se venisse la cazzo Io adesso ti ho visto qui Hai messo il piede qui E poi se restate qui Lei ha ragione signora Però scusi Se non c'è l'orario E noi entriamo E poi ci ritroviamo chiusi Noi eravamo convinti Di riuscire normale Però ora noi come usciamo Ora voi uscite Uscite pure di qua Ormai avete avuto Ma non siamo stati noi a fare questo Non voi C'è abbiamo in generale Ok va bene Se ci chiudono Io come strazopasso Chirvale Salta diretto Salta diretto C'è anima Stai andato indietro? No no Non sono andato indietro Ok perfetto Mi ha detto il valerione Che prima o poi Porterà sul canale Un test E quindi Appena c'è bel tempo Test dello squarna No aspetta Bisogna fare così Guardami Il test della squarna Vloggettino Arconad Che ti ci senti Andai per forza Io non c'ho una lira Proprio non ho un euro Vabbè si può Vabbè si può Vabbè si può Vabbè si può Mi prendi Questi c'è di cioccolato Mmm Cioccolato fondente Cappellino fashion Solo io E' il capo Che è Non c'è più ciò E' sparito Quindi eravate spariti In vetro Voi ho fatto il giro In tutto Voi andavate via Io vi inseguivo Cosa hai preso? Non ci sta Non è Il mio Non mi prendi Non mi prendi Ma vado a prendere Subito qualcosa Mmm Caparevo Caparevo tutta la vita Chiappato l'oreal I nippon Quelli che costano 0,99 Aspetta l'altro dio Perché probabilmente È delato lavaggio Ah no è normale No no grazie Un po' Sì Ho fatto il cioccolato Uguale Mi toccherà ridotti sordi Si mangia e ci si leva dal pipì Qua dove si va? Sei in casa? Uno Ti do un oreo Comunque è la ripresa più utile del mondo Cioè non è che si spacciano in flauti Al cioccolato Cos'è? È verde? Sì ma penso ci facciamo Se prenderà Ma penso stai Una visage Una visage Questa già? No ti giuro assaggia Oh c'è già il mio C'è già il mio C'è già il mio Non ti preoccupare Potrei spaccare una Fiat armamento all'arge Sì Proprio la sua Taglia Taglia Andando in toro Che merda È terriccio È acqua e terriccio Cazzo Non l'assaggiare Fidati Mi fai pulire la bocca Il palato No cazzo È Grazie a tutti.